Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla FIPILIP, personale su strada per lavori in direzione Firenze tra Ponte della Est e Montopoli-Valdarno e tra Livorno-Porto e Livorno-Aurelia. E operai a lavoro anche allo svincolo di Ponte d'Era Ovest-Ponsacco. In A1 controllo della velocità attivo nel tratto compreso tra Incisa-Reggello e Firenze-Sud in direzione Firenze. Sulla statale Trebis-Tiberina lavori nel tratto compreso tra Resina e Sansepolcro-Sud in entrambe le direzioni. Ricordiamo che dal 15 novembre è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali a bordo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!